Oggi pressiamo la carta! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te! Oggi un video bello, uno di quelli super low cost dai risultati nobili, meravigliosi! Oggi impariamo a pressare la carta, ad embossarla a mano. Cosa significa? A creare delle texture sulla carta che ne diano un motivo decorativo. Prima di spostarci sul piano da lavoro, come sempre vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri. Il ricettario dell'arte, il libro che conserva al suo interno tutte le mie ricette per creare autonomamente e in maniera professionale tutte le ricette dell'arte. Dai colori alle paste modellabili, alle vernici, agli stucchi, tutte le ricette le trovate qui dentro. E poi vi aspetto con l'ultimo nato, il grande libro del colore. Il libro che vi insegnerà ad usare il colore consapevolmente. E soprattutto vi spiegherà a comprenderne il significato, la storia e il perché propendete per l'uno o per l'altro colore. Vi aspetto in tutte le librerie, sia fisiche che online. Qui giù vi lascio molti link per l'acquisto. Bene, ora basta parlare, spostiamoci di là e andiamo a vedere la carta pressata, la carta decorata, come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare bigliettini bellissimi con carta rilievo in pochi istanti. Allora ci occorrerà una stecca d'osso, non so, non ce l'avete tutti, una guascia, una pietra, quella là per stirare il viso, magari ce l'avete. Oppure un bulino, questo qui con la punta tonda, oppure, questo ce lo dovete avere per forza, un cucchiaino. Uno di questi quattro elementi o qualunque cosa che serva per strisciare senza lasciare la carta troppo segnata. Un paio di forbicine, il bigliettino che vogliamo decorare in cartoncino, più sottile la carta più semplice sarà prestarla. Io comunque qui ho una 180 grammi, quindi neanche tanto sottile. Un pezzettino di cartoncino oppure degli stencil, vanno benissimo qualunque tipo di stencil. E cominciamo proprio con lo stencil, così vi faccio vedere in 4 e 4 8 quanto è semplice decorare il nostro bigliettino. Pongo qui il mio stencil al centro, voilà, questo è tutto a cuoricioni, lo giro così e con un bulino, tra l'altro il mio è sporchino, quindi sporcherà un po' la carta, non faccio altro che ripassare su tutta la forma, così come se stessi colorando. Naturalmente lo posso fare anche con la guascia, così, o anche col cucchiaino, così. Col cucchiaino devo avere l'accortezza proprio di andare a pressare benissimo. Ho naturalmente con la stecca addosso, che proprio nasce per fare queste cose, quindi andare proprio su tutta la carta, così, e passare su tutto, un po' come facevamo con le 100 lire di una volta e la carta e la matita con il frottage, più o meno la stessa cosa. Giriamo, togliamo il nostro stencil e vediamo cosa ne è venuto fuori, wow, che carino, io spero possiate vederlo, ora ve lo faccio vedere. Guardate, è tutto a cuoricini così, sopraelevati, li vedete? E quanto ci è voluto? Cinque minuti? Immaginiamo una lettera, metto qui, attacco qui la mia formina, metto al centro qui, e semplicemente col bulino ripasso velocemente il cuoricino, così, vediamo com'è venuto, anche Sherie è emozionata. Voilà, ripassiamo bene bene, wow, che carino, guardate, per personalizzare le nostre lettere, adesso io l'ho fatto con questo, ma possiamo farlo anche con le nostre iniziali, per esempio, non è un'idea fantastica, ma voi mi direte, ma io non ce l'ho la formina, ma come faccio? Ragazzi, niente paura, fatevela voi, pezzo di cartoncino qualsiasi, facciamo sempre il cuoricino, oramai, eccolo qui, prendo il mio cuoricino, lo metto qui, metto lui, e ripasso con il bulino, sui bordi, ma che carino, ora vi dicevo, il mio bulino è sporco, quindi sta sporcando la carta, voi fatelo con gli strumenti puliti, perché io questo l'ho usato per la pittura acrilica, e voilà, in men che non si dica, guardate che bella pressatura, che bello embossing che fa, in cinque minuti potete anche ritagliarlo con una forma tonda, con una forma a cuore più ampio, e appenderlo, per esempio, un attimo, voilà, ed usarlo come medaglione bellissimo, magari da far pendere ad un regalo, voglio fare una farfallina, quindi prendo la sagoma di una farfallina, e la ritaglio, prenderò questa qui, mi piace, e quindi piego una carta, a metà così poggio la mia farfallina dove voglio farla stampare qui è piano piano con il mio bulino vado a pigiare sui bordi vedete che sta apparendo carina appare proprio sotto gli occhi così e vediamo se è spuntata ma che carina e adesso ritaglio il mio biglietto perché tra le altre cose non ci vuole veramente ci vuole veramente poco tempo per farli guardate carinissimo e allora in cinque minuti con qualunque carta e un bulino potete fare questi bellissimi bigliettini embossati a mano per biglietti con i cuoricini bustine decorate con dei bellissimi cuoricini o con quello che volete medaglioni da appendere alle carte o da usare come sigilli per le buste oppure appunto dei motivi fantastici per i vostri biglietti ditemi che non è un metodo carinissimo per decorare la carta pollice in su se questo video vi è piaciuto ci vediamo subito dopo le foto ciao ciao ora ditemi se il risultato non è una meraviglia ecco qui basterà poi semplicemente creare l'oggettino che volete fare che sia un biglietto una busta un ciondolo è il tutto avrà subito un nuovo vigore questo è un metodo per pressare la carta a secco ne conosco anche uno facilissimo da bagnato lo volete conoscere lasciatemelo scritto tra i commenti e se sarà sì prestissimo il nuovo video per pressare la carta bagnandola bene se questo video vi è piaciuto pollice in su condivisione e noi ci vediamo sempre su tutto il fantastico mondo online di arte per te vi aspetto su facebook su instagram su tiktok ma vi aspetto soprattutto e anche sui miei altri due canali ombretta il mio canale di lifestyle e due cuori una k il mio canale di cucina che ho insieme a gabriele bene non mi rimane che mandarvi un grande bacio andate a pressare il mondo e soprattutto vi aspetto sempre qua per un prossimo video creativo che ne dite la pressiamo la carta da bagnata fatevelo sapere e ogni vostro desiderio sarà un ordine a presto ciao vi love tutti